L'accelerazione per la scelta dell'ospedale da campo è arrivata con l'aumento esponenziale dei ricoveri in Basso Molise, la zona più colpita in questo momento dalla pandemia e dalle conseguenze della variante inglese. Il presidente della regione, Donato Toma, come autorità di protezione civile, ha preso questa decisione insieme al capo della protezione civile nazionale, Angelo Borrelli. Ieri il sopralluogo davanti al San Timotio e oggi inizierà l'allestimento dell'ospedale che avrà un nucleo centrale da cui partiranno tre bracci, ognuno con otto posti letto per un totale di 24. Come spiegato dal responsabile della protezione civile regionale Manuel Brasiello ci sarà tutto, comodini, armadietti, bagni, riscaldamento ma soprattutto il personale sarà fornito dalla protezione civile tramite la Croce Rossa. In tutto 27 operatori sanitari di cui 10 medici, 12 infermieri e 5 os. L'organizzazione interna verrà decisa dall'ASREM. Al momento l'orientamento è quello di trasferire nell'ospedale da campo pazienti ordinari di altri reparti, molto probabilmente l'intero reparto di medicina in modo da liberare all'interno del San Timotio posti letto di subintensiva per i ricoverati affetti da covid. L'obiettivo ora è quello di togliere il più possibile la pressione sull'ospedale di Termoli. L'ultima settimana è stata drammatica con numerosi ricoveri e con il decesso di pazienti molto giovani. Da oggi fino al 3 marzo con un'ordinanza del sindaco di Termoli Francesco Roberti si fanno più stringenti anche le misure della zona rossa con la chiusura di altre attività, lo stop all'asporto, allo sport e alle celebrazioni religiose.